Una lunga giornata abruzzese per il ministro dell'istruzione e l'università in ricerca Marco Busetti che ha presenziato diversi importanti appuntamenti. Il primo a San Salvo dove è partecipato alla posa della prima pietra del nuovo polo scolastico pronto ad accogliere oltre 500 bambini. In tarda mattinata è poi giunto all'università Gabriele d'Annunzio a Chieti dove è stato accolto dal magnifico rettore Sergio Caputi e da tutto il corpo docente. Mi trovo in una delle università più prestigiose in Italia, ha detto il ministro salutando la gremita platea dell'editorno del rottorato con il 40% del corpo studentesco proveniente da fuori regioni e con importanti eccellenze accademiche che con le loro ricerche stanno dando un contributo fondamentale allo sviluppo della conoscenza. Poco prima Busetti si è brevemente intrattenuto con i colleghi della stampa soffermandosi su alcuni temi in generale dalle novità previste nell'esame di maturità ma anche rispondendo ad alcune polemiche partite dall'ex ministro Del Rio che ha parlato di visita strumentale per le elezioni piuttosto che istituzionale. Mi risulta che in passato anche Del Rio e i suoi illustri colleghi abbiano fatto lo stesso, ha detto Busetti che poi invece si è soffermato su un tema molto sentito nella nostra regione. Questo giro in Abruzzo, ecco qui in questa regione uno dei problemi più importanti è quello relativo all'edilizia scolastica dopo i vari terremoti? Ma non è solo qua, abbiamo in tante zone d'Italia rispetto alle zone sismiche ma soprattutto rispetto all'edilizia scolastica in genere abbiamo dei dati che abbiamo ereditato rispetto alle certificazioni, non alla sicurezza, alle certificazioni e per questo abbiamo già stanziato 7 miliardi, di quali 3 miliardi e mezzo già disponibili attraverso la conferenza unificata ciò perché permette così agli enti proprietari comuni e province di attivarsi per poter certificare i vari certificati di protezione incendio di creazione e valutazione dei rischi in pianti elettrici e termici a norma.